Ragazzi prima di iniziare con questo video mi vorrei scusare con voi se la qualità del video è leggermente inferiore agli altri ma purtroppo ho avuto dei problemi tecnici in questi ultimi due giorni con il pc Motivo per il quale infatti non sono riuscito a portare il video ieri perché siete arrivati maledizione a 5000 mi piace Senza parlare poi del primo video che è arrivato a 8000 che guardate lasciamo stare Quindi sapete cosa c'è? Mi son detto che per evitare promesse del genere che dopo non riesco a mantenere perché ogni volta che cerco di fare qualcosa succede qualcos'altro Mi son detto va bene a questo punto faremo tutti gli altri trollface quest perché tanto lo so benissimo che ci arriverete a tutto il resto dei mi piace visto che andate avanti così come state andando avanti adesso Mentre oggi vi do il benvenuto su trollface quest tv shows Eh sì mi ha tagliato anche la intro ecco perché la sto facendo adesso Allora io ve lo dico subito di serie tv non so praticamente niente Per farvi capire l'ultima volta che ho visto una serie tv è stato probabilmente 5 o 6 anni fa quindi veramente non vi aspettate niente da me ragazzi Al massimo andrò a riconoscere proprio le serie più famose di tutte per esempio questo a prima vista mi sembra Una sottospecie di dottor house se vi posso dire non so che cos'altro potrebbe essere però ve lo dico eviterò di indovinare perché Sinceramente meglio se non lo faccio ecco allora salve signore io la clicco anche se tanto so che non finirà bene ma lo faccio lo stesso per La bellezza di farlo questo qua continua a grattarsi Sinceramente questa volta non mi faccio nessun limite di click perché l'ultima volta ho letteralmente sfondato il gioco ma vabbè vediamo un attimo qua Salve signore cosa le è successo alla gamba Subito l'ambulanza così di violenza mi sa che ho perso vero livello fallito infatti da quando è che arrivano anche le pubblicità adesso su trollface quest Scusa vabbè ricominciamo Magari se clicco sullo skate succede no quindi suppongo che dobbiamo essere noi ad aiutare il ragazzo va bene Questa cosa ecco infatti la volevo cliccare fin da subito perché ho visto tipo la batteria non so che cos'è No non è che magari anche qua bisogna strisciare su cose anche se sto perdendo click tu dimmi non sai fare niente con quel bastone perché sei così tanto Inutile perché continuo a cliccarti non sto capendo Cosa ho fatto ok ok va bene è un'idea devo cliccare davvero no forse la devo tenere premuta Gliela devo tirare addosso non lo so ora clicco su di lui no ci giuro ragazzi che non ho capo Forse devo Emo clicco su di lui Non ha senso la cosa che hai appena fatto livello completato nonostante tutto quanto pare l'abbiamo aiutato quindi ora è sano e salvo Cioè non importa se si è rotto la gamba un cerotto può aiutare è come su far cry avete presente siete stati appena investiti da una macchina Non vi preoccupate una bella benda ed è tutto quanto a posto allora Salve messere cosa possiamo fare qua scommetto che devo cliccare non è vero non devo cliccare su di te ma lo faccio come sempre Forse dobbiamo fare cose con il bastone oppure ho tipo poco tempo per no non è vero non capisco perché sta trattenendo il respiro Allora suppongo che devo cliccare su di lui e poi ho visto che mi dà la possibilità di cliccare su L'altro e infatti però a quanto pare non mi dà niente forse devo tenere premuto clicca su di lui adesso tieni premuto Ok ok sta funzionando perfetto non sta funzionando ok così va bene così va Ok forse questa non andava bene però va beh a quanto pare abbiamo vinto da come potete vedere l'altro signore è felice quindi noi andiamo avanti Ragazzi a proposito visto che tra di voi sicuramente ci sta tanta gente che guarda le serie tv qualcuno me le potrebbe elencare quelle che ci saranno in Quest'episodio sono curioso magari alcune le conoscevo Di nome non saprei sono curioso allora signore scommetto che se la tocco sparerà la vita da quel fucile però nonostante tutto io lo faccio Infatti lo sta facendo e credo che non dovrebbe però va bene proviamo a cliccare magari su una macchina Oppure su qualcuno oppure magari sul tizio no non sul tizio così però ok palle non può funzionare questa cosa clicca a caso C'era qualcosa qua da cliccare allora ricomincia vediamo qua e ora mi fa ok ok che cos'è questa roba non lo so però mi piace Tantissimo ho vinto ragazzi io ve lo giuro che va bene due episodi fa capivo poco l'episodio scorso ho capito di meno però più o meno qualcosa ci stava Ma questa volta ve lo giro che non ci sto capendo letteralmente in niente di quel che sta succedendo prossimo livello veramente non L'ho la più palli di idea allora c'è un tizio con la maglietta da troll e poi un'altra cosa che non so che cos'è però Ho visto questo quadro che a quanto pare non si può cliccare va bene clicco su di te Forse bisogna tenere premuto anche qui no quanto ok sì sì Cosa sta succedendo Ora impazziscono io ve lo dico adesso impazziscono tipo tantissimo non so perché ma lo credo tanto State calmi Ora impazziscono ragazzi ora implodono non so ho smesso non sto più cliccando niente va bene Madonna che casino che stanno facendo però state calmi un attimo zitti questa volta che cosa bisogna fare salve signore Ridi pure tu non lo so ti devo tenere premuto ti devo spostare non saprei tipo ti faccio ridere tantissimo Neanche funziona però 144 clic È diventata cartigenica Non credo che doveva essere così la cosa Tu cosa diventerai? Ah uno stura accessi se non sbaglio va bene e ne do ovviamente di nuovo un'altra pubblicità Grazie gioco veramente ricominciamo allora se questa volta cambio prima lui No lui rimane sempre Quello posso Cosa devo fare E adesso su di lei no su di lui ho fatto qualcosa Eh ho capito ma tuo fratello scusa ma no ma così non va bene e se n'è andato Ma la cosa non ha senso e se faccio con la sorella cambia qualcosa No con la sorella non cambia niente che schifo Prossimo livello comunque andiamo allora Eh ci sono degli alieni scommetto che se clicco qua implode qualcosa ma io ovviamente lo faccio Toc toc c'è nessuno Ok una luce a caso E ho perso Allora proviamo a cliccare su di loro prima Striscia Eh tieni Eh cosa Eh Livello fallito perché ho fallito il livello non ha senso Tu fai così Se tipo faccio così poi non ho tempo di fare niente Forse faccio tipo così Poi faccio così No e poi sposto lo schermo vaffan bene ho fatto un casino scommetto Questo sicuramente c'è qualcosa da fare qui Oh Ok anche lui Adesso tipo aprono questo e succede qualcosa Non è vero Ma 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 no Non ha senso Non ha senso io io non sto capendo Ragazzi veramente perché questo gioco esiste Ora ditemi che la navicella vola pure Eh ovviamente sì Vola via verso gli infinite e oltre Certo Allora eh questo qui Eh Ah come si chiama La famiglia adams Ho visto che dovrebbe esserci anche il trono di spade giusto Qui da qualche parte non è vero non ci sarà il trono di spade Ok almeno ci ho provato Eh cosa dobbiamo fare clicco su di te e ridi Eh lui ride Lei ride Lei ride Lei ride Lui ride E lui piange Perché lui piange Non capito Ovviamente ho cliccato sulla pubblicità che palle Ok Eh se tipo clicco prima di su di te Oddio santo mi hai spaventato Ok stai calmo però È impazzito ragazzi Cosa sta succedendo Livello completato Ok Allora Vediamo un po' apriamo questo Cosa c'è qua dentro Credo che è una serie tv che conosco non so perché ragazzi Clicco a te Niente Riclicco a te magari Eh Niente E ovviamente mi fallisce a caso Va bene Uh Uh Ah ok No stavo scherzando Che schifo Eh adesso devo cliccare sulla porta No ma Non ha senso Ok Eh come finisce Ora tipo gli finisce addosso Ma quanto lo sapevo ragazzi ci potevo scommettere Prossimo livello Che cos'è questa volta Tu cosa sei un manichino Oddio santo no Stai calmo Mmm Stai calmo tu Non fare niente per favore tieni premuto Ok Ok Tenere premuto a quanto pare funziona Cosa stai facendo Lo sta solleticando fino alla morte E a quanto pare ho completato di nuovo il livello Cioè veramente ragazzi sono troppo forte Ok Questa cosa Probabilmente sarà molto tattica Se non sbaglio anche l'ultimo livello Infatti è il decimo livello Va bene Per me clicchiamo sul tizio E lui dice cose Lei ride E clicchiamo sul fazzoletto Anzi diamo il fazzoletto a Qualcuno Ok lei ride di nuovo Fazzoletto a lui Cosa diamine sta succedendo Livello fallito Perché proviamo di nuovo tipo a fare così Poi a fare così Poi a Fare Così No 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 Se fai qualcosa di schifoso ti giuro ti picchio male Ma Ma Eh Dio 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 Però questo gioco L'ho fatto in 371 click Che palle ci ho messo decisamente troppo Sapete giusto per il gusto di fardo voglio rifare tutto quanto letteralmente al volo a zero tutto Voglio far vedere che sono bravo sapete Allora innanzitutto a te ci dobbiamo cliccare di violenza così Ok dopodiché fare tipo così Oh E abbiamo fatto qualcosa Clicchiamo su di lui 13 click di già Questo è stato abbastanza difficile da capire devo dire eh Signore tu clicca Io tengo premuto Ovviamente Così dovrei riuscire a fare tutto quanto Adesso riclicca E riclicca Fatto Spara Tu abbassa E abbiamo fatto anche questo È stato abbastanza facile Terzo livello mi sta andando molto bene Ora era da cliccare infatti Prossimo livello Questi qua bisogna tenere premuto Per fortuna Che non bisogna fare troppo Sono contento veramente Non ricordo tra quante che iniziano a ridere tanto Però fa abbastanza paura la cosa Se devo essere sincero E più che altro fanno casino Ehm Avete fatto? Ah Ok dovevo cliccare Allora adesso tu prendi Dopodiché fai così Ok Prossimo livello Ora tu alza Tu alza Perfetto Ehm Metti questo Voi due entrate Uno Eeeh Due Ora Vola via navicella Madonna questa cosa non ha senso Ve lo giuro Tu tieni premuto Ok Questo impazzisce male E voi ridete Perfetto Adesso tu Bisogna cliccare tutto il tempo Ok Ehm Clicca qui Lui ride Esce Ehm Per finire dovevamo cliccare su questo Si Prossimo livello Ehm Tieni premuto Credo Credo Non ricordo Ok si Vai avanti per favore basta smettila Alza qui Alza qui Tocca a lei Tocca a lui Oh finito Fa abbastanza schifo questo episodio Non per dire niente Però va bene L'ho fatto in 53 click Probabilmente è possibile farlo in 50 Non saprei Provate a farlo anche voi Ditemi in quanti click l'avete fatto Mentre io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Dato una zampata Se vi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao